Prima sessione di qualifiche dell'Euro Formula Open a Monza per il sesto round stagionale della serie monoposto promossa da GT Sport Una sessione tiratissima che ha visto Harrison Scott concludere con il miglior tempo in 1.43.840 Ottava pole position stagionale per l'inglese DRP Motorsport che ha avuto la meglio per soli 60 millesimi Nei confronti del russo di casa drivex Nikita Troitsky Una bellissima battaglia che ha animato i 30 minuti tra l'inglese e il russo che ormai da Estoril stanno continuando a botta e risposta Questa battaglia che potrebbe però permettere ad Harrison Scott di laurearsi campione già questo fine settimana 103 punti di vantaggio per l'inglese al termine di questa strepitosa qualifica L'entusiasmo ovviamente al muretto RP che piazza anche Fitti in terza piazza Fitti in terza piazza